ci raggiunge ci raggiunge adesso la fa proprio dretti rinaldi cerca di spezzare un po i sogni di gloria della focol comunque siamo 14 10 siamo ancora 14 10 c'è ancora un pezzettino di speranza bisogna strappare il biglietto siamo veramente a un soffio si si legnano ce la fa 15 a 10 15 a 10 si aggiudica il se giudica il tie break e quindi legnano vince vince la partita con 15 a 10 e quindi si conclude con 3 a 2 3 a 2 il punteggio adesso godiamoci questi attimi di gioia l'esultanza dopo tanta tensione e tanta agonismo messo in campo oggi ovviamente i complimenti vanno alle legnanesi della focol e soprattutto alle ospiti che sono state delle degne avversarie che quindi meritano il massimo rispetto perché hanno fatto vedere un gran bel gioco anche loro e non si sono arrese fino alla fine gli applausi sono tutti per voi vediamo che adesso arrivano sotto sotto gli spalti a farsi un bagno di applausi le giocatrici Grazie a tutti.